Tempo di feste e natalizie, tempo di regali, ma anche tempo di rincari. Dall'indagine di FederConsumatori Pesaro Urbino, che recepisce le ricerche dell'Osservatorio Nazionale dell'Associazione, quest'anno si spenderà il 10,2% in più rispetto al 2022. A registrare rincari più elevati saranno gli addobbi natalizi con un più 19%, i regali di ultima generazione come l'Hitech più 14% e i prodotti alimentari più 12%. La spesa media a persona tra chi effettuerà acquisti sarà di 169 euro. Dall'indagine emerge che il 68% di chi ha fatto acquisti durante il Black Friday lo ha fatto anticipando proprio i regali natalizi. Studi nei quali emerge come in questo Natale risulteranno molto cettonati i regali alimentari, dai vini ai formaggi, dal miele ai prodotti tipici, un settore in cui ci sarà una crescita di doni food del 9%. Fra i massimi rincari registrati da Federconsumatori ci sono prodotti tipicamente natalizi. Costeranno infatti il 23-24% in più le lenticchie, i torroni o la frutta secca. Addirittura del 30-40% il rincaro sulla cartoleria da regalo. Aumenta anche il prezzo dei regali tradizionali come libri o giocattoli. Aumenta anche il prezzo dei regali di rincari.